Lo scorso, 24 settembre 2020, erano giovedì intorno alle 12.30, si macchiarono di un doppio grave reato, quello di rapina pluriaggravata a mano armata e quello di sequestro di persona, arrivando al punto di invavagliare alcuni dipendenti durante la pausa pranzo e tenerli sotto scacco per alcuni minuti, per il tempo necessario per rubare oro e gioielli del valore di 62 mila euro, dopo aver fatto irruzione e armati fino ai denti. A compiere fisicamente il ride all'interno della galvanica metalli preziosi, GMP, azienda ora fattiva da oltre 35 anni nella zona in via Monte Asolon, furono in tre, di cui due con pistole in pugno, tutti con i volti travisati per non farsi riconoscere, ma sono in tutto ben 11 nominativi coinvolti e 10 quelli sottoposti a misure cautelari. Da quel terribile giorno di fine settembre sono passati quasi quattro mesi e mezzo, lasso di tempo in cui non è stato speso in vano, i carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa hanno portato avanti le indagini fino a dare un volto e un nome a ciascuno dei membri della banda che fece irruzione nella GPM di San Giuseppe di Cazzola. Si scopre oggi che già lo scorso 13 ottobre, quindi una ventina, dopo l'assalto del comando armato, due dei presenti componenti furono arrestati a Torino dei militari dell'arma di Mirafiori. Si tratta di Antonio Rosi e Dario Russo, i cittadini italiani ricercati e pregiudicati noti. I carabinieri non si accontentarono dei due pesci grossi caduti nella rete, ritenuti componenti del terzetto che fece irruzione, proseguendo l'attività investigativa con pedinamenti, testimonianza e ricostruzione. Proprio grazie allo strumento del riconoscimento papillare si è arrivati ad un terzo nome, quello di Luigi Spavento, grazie al contributo delle indagini denominate Operazioni Brass & Golda, offerto dai laboratori del RIS di Parma. Fino a giungere i giorni nostri con un'estamattina, prima dell'alba a far scattare l'ultimo blocco del piano d'azione, andando a prelevare alle 6 del mattino tutti gli indagati coinvolti a vario titolo nel ride del 24 settembre. Più pattugli di carabinieri hanno suonato in contemporanea i campanelli di alloggi di Calceresa, Cassola, Bassano del Grappa, Bari, Milano, Napoli e Ceriano e Laghetto, in Monza-Brianza, per gli arresti di tutte le persone ritenute ramificate della banda. Disposta alla detenzione in carcere per i tre italiani sopra citati, vale a dire Antonio Rosi, Dario Russo e Luigi Spavento, ai quali si aggiunge Cassam Yamili, considerati gli esecutori materiali di rapina a San Giuseppe. Agli arresti domiciliari è finito invece il vicentino Riccardo Zona, ritenuto il cavallo di Troia all'interno dell'azienda, dipendente della stessa e complice chiave per compiere i BITS andando a colpo sicuro. Unica donna indagata è Giuseina Berretta, che in Brianza avrebbe offerto una base logistica a parte del gruppo criminale, per lei disposto l'obbligo di firma in caserma. Gli altri soggetti, considerati parte integrante del piano, rispondono ai nomi di Carlo Scudiero e Marco Bonotto. E il milanese Luigi Pompeo, indagati per aver agevolato il comando nei giorni precedenti, effettuando per conto degli esecutori dei sovralluoghi. Chi offrendo loro alloggio è un'autovettura per effettuare il colpo, simulandone il furto. A ordine di dettagli e a fare capofila della rapina, anche gli intenti di rapinatori doveva fruttare un bottino milionario, ben più corposo e ritenuto Giovanni Flacchi, nome legato agli ambienti criminali.